allora iniziamo la lezione di oggi chiedendo se ci sono dei dubbi delle domande sulla parte relativa all'architettura generale del web se avete curiosità o altre cose che volete chiedere ovviamente resto poi a disposizione per domande anche sul canale slack nei prossimi momenti si sente male io posso provare a avvicinare il microfono ok si sente meglio ora ok quindi è un po di ok dipende un po dalle connessioni in ogni caso le lezioni queste in diretta io le registro anche in locale per cui nella versione registrata l'audio dovrebbe essere assolutamente a posto per cui quelle registrate dal portale purtroppo soffrono di problemi eventualmente della mia connessione che ovviamente ci possono essere come come per le vostre e comunque io ho una registrazione in locale che dovrebbe ovviare a tutti questi problemi in caso se c'è qualcosa di problematico che non sentite chiedete pure io ripeto volentieri quindi ci sono domande o curiosità relative al al tema più generale del dell'architettura internet allora non vedo domande per il momento a questo punto passerei a una introduzione pratica a html e soprattutto all'ambiente webstorm che è quello che utilizzeremo per tutto il resto del corso vi ho messo il link sulla sulla chat e anche su slack da cui potete scaricare il la vostra copia io vi apro velocemente la pagina la pagina è questa voi potete fare un download della della vostra versione per tutti gli studenti è disponibile una versione gratuita quindi voi potete registrare l'importante che fornate la l'email del politecnico perché in questo modo possono verificare che effettivamente appartenete a un'organizzazione universitaria e dopodiché avete la licenza gratuita non soltanto per webstorm ma per praticamente tutti i prodotti JetBrains la licenza dura un anno però la potete tranquillamente rinnovare finché siete studenti del politecnico quindi vi invito a scaricare webstorm registrarvi in modo da avere la licenza per i prossimi mesi è comunque possibile anche scaricandolo direttamente al volo avere una licenza che dura 30 giorni quindi anche se non vi registrate subito avete poi 30 giorni di tempo per avere la vostra licenza che vi permetterà di utilizzarlo tranquillamente per un anno a questo punto quando lanciate webstorm vi appare una finestra analoga a questa in cui potete fare due operazioni una è quella di creare direttamente un nuovo progetto l'altra è quella di ottenere un progetto da un sistema di controllo versioni questa seconda modalità è quella che poi utilizzerete durante i laboratori e poi in ultima istanza anche per l'esame per il momento però noi iniziamo creando un nuovo progetto che è quello che potete fare voi per sperimentare un po' quindi creiamo un nuovo progetto abbiamo visto che webstorm è un ambiente integrato che permette di supportare lo sviluppo web tante diverse tipologie di progetti quello che scegliamo noi visto che non andremo a utilizzare particolari framework se non per semplicemente la parte di visualizzazione quello che scegliamo è il primo ovvero un progetto vuoto e andiamo a scegliere il progetto che possiamo chiamare vq20 lo potete mettere dove volete sostanzialmente ci sarà una cartella da qualche parte che conterrà il progetto quindi andiamo a creare il progetto e si apre la pagina di webstorm che ci permette di andare a avere a disposizione i progetti dentro la cartella abbiamo tutti i file in questo momento nessuno che compongono il progetto anche perché abbiamo creato un progetto vuoto a questo punto quello che possiamo fare è con un clic destro fare new e poi andare a chiedere di creare un file html il file html può essere di diversi tipi ci sono diverse versioni di html quella a cui faremo riferimento noi durante questo corso che è anche quella più recente è l'html5 per cui scegliamo un html5 e andiamo a definire quello che è il nome del nostro primo file diciamo primo.html è il nostro primo file a questo punto viene creato un file e viene aperto lo stesso all'interno di un edito a questo punto vi allargo un po' il testo così possiamo commentare il contenuto del file html allora domanda a cui rispondo webstorm è a pagamento ma vi potete registrare come studenti e avete la licenza gratuita per un anno se andate in buy vedete avete i prezzi però nelle special offer in alto ci sono studenti e teacher se cliccate su learn more avete la possibilità di andare a chiedere una licenza quindi per il momento potete utilizzare tranquillamente il trial di 30 giorni poi dopo con calma fate la richiesta della licenza è sufficiente come dicevo prima la mail del politecnico automaticamente vi viene concessa che cos'è html allora html è sostanzialmente un linguaggio per andare a descrivere i contenuti sul web ed è il linguaggio che viene utilizzato per descrivere i contenuti sul web html html sta per hypertext markup language dove markup si riferisce a degli elementi che vengono inseriti nel linguaggio per andare a specificare il ruolo di diverse parti in particolare in markup all'interno di html è dato da questi elementi che noi vediamo ad esempio body head tutti questi sono quelli che vengono chiamati dei tag e non mostrano nulla ma semplicemente vanno a descrivere delle proprietà degli elementi che sono vicini per cui questa coppia di tag body e slash body indica che tutto ciò che compare al loro interno è il corpo del documento ovvero quello che viene mostrato all'interno di una finestra del browser abbiamo anche altri tag ad esempio c'è un tag che si chiama h1 che è il tag che permette di andare a identificare i titoli di livello 1 ovviamente come facilmente immaginate ci saranno anche degli h2, h3 eccetera e qui andiamo a mettere titolo della pagina e testo quindi voi potete tranquillamente scrivere all'interno della pagina html ci sono altri elementi ad esempio c'è b che sta a indicare la parte di bold quindi del testo che è enfatizzato e poi il testo normale questo è la pagina html che un server web andrà a prendere e andrà a passare a un browser quindi quello che possiamo fare è chiedere a webstorm di creare un server web che sostanzialmente ha come documenti disponibili tutti quelli che sono contenuti dentro la cartella del progetto in questo caso l'unico documento è primo.html e di aprire un browser su questa pagina quindi quando io vado a fare l'editing della pagina vedete che qua in alto a destra compaiono una serie di icone che corrispondono a diversi browser per cui ad esempio Chrome, Firefox, Safari, Opera se voi andate a cliccare su uno di questi pulsanti il risultato è quello di andare ad aprire una nuova finestra di quel browser collegata al server web che WebStorm ha automaticamente avviato quindi se io vado a cliccare su Safari che è quello che avevo già aperto prima sostanzialmente ottengo questo contenuto questo è il contenuto che ci viene mostrato vedete che qui l'url è localhost il che vuol dire la macchina su cui stiamo eseguendo le nostre operazioni due punti la porta a cui è disponibile il server web a cui risponde il server web e poi Vic20 che è il scusatemi che è il nome del progetto slash primo.html e poi c'è anche un frammento aggiuntivo che serve per garantire che nessuno si collega a questa pagina senza il permesso quindi cosa succede? WebStorm ci permette di andare a scrivere il contenuto della pagina che è quello che abbiamo fatto un attimo fa dopodiché su richiesta crea un piccolo server web che è in grado di andare a rispondere a delle richieste permettendo di recuperare le pagine che abbiamo appena creato la o le pagine perché dentro posso mettere delle pagine html posso mettere delle immagini posso mettere qualunque cosa e dopodiché una volta che ha attivato questo piccolo server web apre in automatico un browser uno ha scelta quello che vogliamo andare ad attivare noi e gli passa come url l'url del server web che è appena creato quindi sostanzialmente qui abbiamo in funzione sulla stessa macchina il client che è questa pagina che vediamo qui più il server web che sostanzialmente è nascosto all'interno di webstore quindi ci ritroviamo all'interno di quella che è l'architettura web a questo punto appena viene aperto il nostro il nostro browser il client prende l'url che abbiamo specificato o meglio che webstore gli ha passato si collega alla stessa macchina quindi non abbiamo neanche bisogno in teoria di avere una connessione internet si collega alla stessa macchina chiede il contenuto della della pagina che abbiamo appena finito di modificare e la mostra qui all'interno come vedete ora vi allargo un po' anche il contenuto di questa pagina il titolo della pagina era quello che era racchiuso all'interno del dei tag h1 e slash h1 eccolo qua quindi era questo ed è stato visualizzato dal browser come un testo più grande e in grassetto è il titolo della nostra pagina successivamente abbiamo messo del testo enfatizzato e del testo normale il testo enfatizzato se ricordate l'avevamo messo tra b e slash b b sta per bold e poi il testo normale e quindi abbiamo il testo enfatizzato racchiuso tra b e slash b viene mostrato in grassetto mentre il resto del testo è testo assolutamente normale questo è l'ambiente in cui lavoriamo allora abbiamo da un lato webstorm in cui possiamo andare a scrivere delle pagine html potremmo scrivere dei fogli di stile css potremmo andare a scrivere del codice javascript in file separate all'interno della pagina eccetera e poi per andare a verificare quello che abbiamo fatto c'è un client che viene lanciato per andare a visualizzare il contenuto della pagina allora domanda posso sostituire xamp o è limitato per creare collegamento tra file e browser allora in linea di principio webstorm che cosa fa crea un piccolo server web che serve esclusivamente per andare a testare il contenuto della pagina quindi è un server web molto molto limitato io ora non ho conosco vagamente xamp quindi non so esattamente le funzionalità ma da quello che ricordo è un po' più ha una funzionalità un po' più generale quindi non esattamente questo è un server dedicato molto molto ridotto infatti se io provo a copiare quest'url dentro un altro browser tendenzialmente mi viene segnalato un errore perché questo server web che viene generato da webstorm è limitato ed è esclusivamente utile per fare del test vedere se i contenuti funzionano all'interno di un browser ora c'è anche un altro modo di accedere a un file che sicuramente avete già sperimentato sui vostri pc è possibile andare a recuperare la cartella in cui è memorizzato un file html e aprirlo direttamente dal browser quindi invece di avere localhost avrò un file open file visualizzazione vik20 e primo.html vedete che adesso zoom a parte il contenuto di questa pagina e di questa sono sostanzialmente gli stessi se voi avete a disposizione un file che contiene html tendenzialmente aprirlo attraverso il server web oppure aprirlo direttamente come file non fa nessuna differenza perché il browser è in grado di interpretare il contenuto html senza nessuna differenza invece le cose cambiano abbastanza nel momento in cui voi avete il codice javascript perché una delle cose che vi dicevo nell'ultima lezione è che il codice javascript essendo eseguito sul browser quindi sostanzialmente sulla macchina nostra deve avere un accesso limitato alle risorse questo perché per motivi di sicurezza immaginate di collegarvi per sbaglio a un sito web in cui qualcuno ha scritto del codice javascript pericoloso quel codice se non fosse contenuto potrebbe andare sul vostro disco prendere le vostre password cancellare tutto quello che avete e salutarvi per fortuna questo non è possibile perché il codice javascript all'interno del browser viene eseguito in quella che si chiama una sandbox ovvero un ambiente limitato in cui è possibile fare soltanto alcune operazioni per cui si può muovere in maniera abbastanza libera all'interno della pagina quindi può andare a modificare i contenuti della pagina ma non può accedere all'esterno e soprattutto può accedere a file dati soltanto se arrivano esattamente dallo stesso server a cui appartiene la pagina altrimenti di nuovo voi potreste scaricare un file html con uno script che arriva da un qualche sito poco pulito e automaticamente lo script potrebbe andare a collegarsi al server della vostra banca andando a fare qualche operazione per cui ripeto javascript è molto limitato e per funzionare deve essere agganciato ad un server web da cui viene scaricato se io carico una pagina html direttamente come file non c'è più un server web e quindi i vincoli che vengono posti sull'esecuzione di javascript sono ancora più stretti e quindi è molto probabile che non funzioni tutto come dovrebbe quindi in generale non aprite come regola generale i file html direttamente ma apriteli attraverso il server web che automaticamente viene attivato da WebStorm altra raccomandazione torno di qua su WebStorm vedete che ci sono soltanto alcuni browser ci sono soltanto alcuni browser ce ne sono quattro WebStorm Firefox Safari e Opera in generale non compare Internet Explorer ovvero il browser di default di Windows questo perché perché buona parte delle versioni di Internet Explorer hanno un supporto non corretto o comunque molto limitato di javascript per cui tutto il codice che vedremo funziona decisamente meglio su quei browser la mia raccomandazione come indicazione generale è di utilizzare Firefox che è quello più vicino agli standard quindi se quello che scrivete funziona su Firefox ragionevolmente è conforme agli standard quindi quello è il browser che di solito vi conviene utilizzare se voi preferite utilizzare Chrome direi che va bene allo stesso modo attenzione a utilizzare Internet Explorer perché è possibile che non funzioni sicuramente non funziona la versione di Internet Explorer che c'è nei laboratori del Politecnico quindi il problema in questo momento non si pone però ricordatevi che se volete andare tranquilli utilizzate Firefox e in seconda battuta Chrome o Safari a questo punto una minima panoramica su quello che è il contenuto del nostro file HTML se andiamo a vedere il contenuto della nostra pagina io mi ero soffermato prima su questa parte del file che è contenuta tra il tag body e il tag slash body che è per l'appunto quello che noi vediamo all'interno del browser prima osservazione vediamo che qui buona parte dei tag anzi tutti sono doppi abbiamo un tag di apertura ad esempio h1 e un tag di chiusura slash h1 questo significa questo significa che tutto il frammento di file che si trova all'interno di questi due tag apertura e chiusura ha una caratteristica particolare ad esempio nel caso di h1 significa che quel frammento di testo verrà interpretato come titolo e quindi verrà visualizzato più grande in grassetto eccetera tutto quello che si trova tra b e slash b verrà messo in grassetto tutto quello che si trova tra body e slash body è la parte di contenuto che verrà visualizzata all'interno del browser se andiamo a vedere più in generale vedete che sostanzialmente qui in alto abbiamo un tag html e in fondo abbiamo un tag slash html tutto il nostro file html è racchiuso tra questi due tag all'interno del tag html ci sono due sotto tag uno è head e l'altro è body body abbiamo già visto che è la parte che viene visualizzata head contiene alcune informazioni aggiuntive ad esempio contiene il titolo ovvero quello che viene mostrato nella barra del nostro browser infatti title è quello che noi andiamo a leggere in alto nella barra del titolo oltre al titolo che è l'unica cosa che noi vediamo i tag head e slash head contengono altre informazioni ad esempio contengono questa dichiarazione che è una meta informazione ovvero non è un'informazione che noi mostriamo che il browser mostra direttamente ma è un'informazione di contorno quindi è un'informazione sull'informazione contenuta nel file html per questo si chiama meta informazione questa ci dice qual è il set di caratteri che viene utilizzato nel nostro file in particolare per default webstorm usa come set di caratteri utf8 ci torneremo poi più avanti in generale sappiate che se sbagliamo a indicare il set di caratteri il risultato è che i browser mostreranno una serie di caratteri in particolare caratteri accentati di solito in maniera errata vi faccio un esempio se io vado a scrivere qui questo è testo normale salvo torno di qua vado a ricaricare la pagina vedete che c'è scritto questo è testo normale se io non metto questo charset oppure metto un'altra codifica ad esempio iso 8859 trattino 1 salvo e ricarico e ricarico la pagina vedete che il risultato è una coppia di caratteri invece della e accentata questo perché perché sostanzialmente la codifica ci dice come il carattere quello che noi scriviamo nell'editor la e accentata più costoso che qualunque altro carattere viene convertito in una serie di byte e quindi anche come la serie di byte deve essere poi interpretata per andare a ricostruire i caratteri per cui se la codifica con cui scriviamo i byte è la stessa con cui il browser poi li va a interpretare tutto funziona bene se invece la codifica con cui scriviamo i byte e quella con cui il browser li va a interpretare non sono corrispondenti il risultato è sostanzialmente questo per cui quello che è importante di solito è andare a indicare la codifica in modo che il browser leggendo questa meta informazione sia in grado di interpretare correttamente le informazioni torneremo sulle codifiche poi più avanti spiegando bene che cos'è UTF-8 e cos'è il set di caratteri UTF quindi a questo punto specificando bene la codifica funziona tutto un problema si può porre se quando abbiamo scelto la codifica invece di scegliere la codifica di default abbiamo scelto noi una specifica codifica per cui ad esempio se andiamo a dire voglio per forza interpretare tutti i file che arrivano lo sto dicendo al browser come codificati con la ISO Latin1 che è quel codice ISO 18859 che avevo indicato prima e a questo punto sto obbligando il browser a interpretare in maniera errata i contenuti quindi in generale se scriviamo dell'HTML corretto e soprattutto se accediamo a siti web in cui l'HTML è scritto correttamente e contiene un'indicazione del tipo di caratteri questo problema non si pone da cui normalmente quello che andiamo a fare è di andare a mettere default ovvero utilizzare come codifica quella contenuta all'interno del nostro file HTML in generale se voi trovate dei caratteri strambi all'interno di un file HTML il problema è normalmente dato dalla codifica normalmente il funzionamento principale dei tagli in HTML è quello di andare per l'appunto a delimitare un frammento del file dicendo che quel frammento ha alcune proprietà per cui ad esempio tutto ciò che è tra b e slash b avrà come proprietà di essere messo in grassetto qua su in alto nel tag HTML vediamo che oltre ad avere la possibilità di delimitare un frammento di HTML i tag possono contenere normalmente questo avviene nei tag di inizio non in quelli di fine quelli che si chiamano degli attributi ovvero delle coppie nome uguale valore questi attributi possono andare a fornire alcuni dettagli aggiuntivi che vengono utilizzati dal browser per andare a interpretare il contenuto ad esempio quell'attributo lang uguale a n mi dice sostanzialmente che la lingua del documento è inglese se volessi essere coerente invece di dire n dovrei dire it visto che abbiamo scritto in italiano e qui invece di dire title vado a dire titolo della pagina ok ultimo pezzettino della nostra pagina della nostra semplicissima pagina html è quella dichiarazione che vediamo nella prima riga in alto nel nostro documento quindi minore doctype html questa parte sostanzialmente serve per andare a dichiarare che tipo di file stiamo trattando perché questo è necessario perché il browser quando vede arrivare un contenuto quindi una pagina html la deve interpretare nel modo corretto in particolare nel corso degli anni sono succedute diverse versioni di html quando abbiamo creato questo file avete visto che c'erano almeno tre versioni html5 html4 e xhtml quindi le piccole allora queste versioni ovviamente non sono completamente diverse ma ci sono alcune piccole differenze per cui è importante per il browser sapere qual è il tipo di documento che sta elaborando in particolare quale versione di html sta elaborando in modo da elaborarlo in maniera corretta tenete presente che i browser sono molto resilienti a qualunque errore noi andiamo a commettere io posso dimenticarmi di fare slash body slash html quindi cancellare questo e il mio browser ricaricando la pagina non farà una piega mi farà vedere esattamente lo stesso contenuto di prima perché ha capito che mancavano i tag di chiusura li ha aggiunti lui e nessun problema tuttavia se noi vogliamo essere sicuri che venga mostrato il contenuto esattamente come l'abbiamo scritto è importante dare un'indicazione di quello che è la tipologia o la versione di html che noi utilizziamo tanto per farvi un esempio se io vado a creare all'interno del nostro documento quindi vado a fare un new html file vado a scegliere html 4 e lo chiamo html 4 punto html vedete che la dichiarazione che c'è qua su in cima è diversa doctype html public v3c dtd html 401 eccetera 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 mentre invece nel caso del nostro documento html 5 abbiamo semplicemente doctype html altro esempio se io vado a creare un nuovo html file usando come standard xhtml quindi xhtml punto html il doctype che ci ritroviamo è ancora diverso quindi ogni piccola variante di html avrà un doctype leggermente diverso quindi visto che noi facciamo riferimento ad html 5 che è lo standard più recente più diffuso ed è quello anche più flessibile tutti i nostri documenti dovranno ragionevolmente iniziare con quella dichiarazione di tipo di documento html questo dice al nostro browser di interpretare il contenuto del nostro file html come un documento conforme allo standard html 5 ok quindi questo è l'uso base di un documento html possiamo utilizzare webstone per andare a scrivere i nostri documenti e possiamo successivamente andarli a visualizzare allora quando abbiamo parlato della struttura del nostro documento html abbiamo detto che il documento sostanzialmente usa una tecnica che abbiamo chiamato di markup il markup è esattamente andare a racchiudere una sezione del nostro documento quindi annotarla con questi tag iniziale e finale quindi all'interno del nostro documento tutto è sostanzialmente una sequenza di tag e testo i tag possono ovviamente essere annidati uno dentro l'altro per cui vedete che body contiene tutta questa sequenza di tag h1 contiene nulla contiene del testo ma volendo io potrei andare a mettere qua un tag del tipo i che sta per italic sostanzialmente se vado a ricaricare la pagina vedete che questo della è rappresentato in italico volendo posso dentro il tag b andare ad annidare un altro tag b ad esempio le doppie l metterle ancora in grassetto quindi in pratica ottengo il grassetto in realtà è già in grassetto questo quindi non si vede e posso andarlo a utilizzare allora domanda a parte la comodità della visualizzazione usare webstorm rispetto a un altro editor di testo dà dei vantaggi beh sostanzialmente sì nel senso che io posso ovviamente scrivere il codice html con qualunque editor di testo anzi diciamo che gli editor moderni mi danno anche quello che è la colorazione della sintassi vedete che qui ad esempio il testo è tutto nero mentre invece i tag sono blu scuri in grassetto quindi questa caratteristica è presente anche in buona parte degli editor che potete avere in più quello che abbiamo è che sostanzialmente webstorm ci dà anche un controllo degli errori quindi vedete prima io quando ho messo ad esempio i vedete che automaticamente webstorm mi ha aggiunto una chiusura della i se lo cancello quindi cancello la chiusura della i vedete che qua mi dà un errore e mi dice element i is not closed quindi ho un controllo della sintassi sull'html è utile ma non è fondamentale mentre invece diventa molto importante quando andiamo a scrivere codice javascript perché mentre il browser nel visualizzare l'html è abbastanza tollerante quando andiamo a scrivere codice javascript se c'è un errore è un linguaggio di programmazione non funziona e basta quindi il vantaggio è di avere un editor che ci fa anche controllo sintattico e quindi è un ambiente unico integrato sicuramente webstorm per quello che facciamo in questo corso è molto più di quello che ci serve però è uno degli ambienti più diffusi nello sviluppo di applicazioni web per cui è utile per voi quantomeno iniziare a conoscerlo soprattutto a livello base e poi se avete necessità di andare a sviluppare applicazioni web un po' più complicate conoscete già l'ambiente quindi per voi è più facile però in linea di principio potreste utilizzare un qualunque editor di testo ecco adesso ho annullato una I dentro la B vedete che c'è un pezzo di testo in italico il resto è normale per cui buona parte dei dei nostri tag sono pensati per essere usati in coppia una coppia di tag e tutto tutto quello che è contenuto al loro interno solitamente si chiama un elemento quindi ad esempio tutto ciò che va da minore h1 eccetera eccetera fino a slash h1 maggiore quindi tutto quello che vi ho evidenziato qui è sostanzialmente chiamato un elemento visto che noi possiamo annidare i tag uno dentro l'altro va da sé che gli elementi possano essere annidati uno dentro l'altro esistono anche alcuni elementi che sono elementi semplici e non possono contenere altri elementi annidati al loro interno anche se la maggioranza ha questa caratteristica un esempio è ad esempio il tag hr quello che si chiama l'horizontal rule ovvero una riga orizzontale ve lo faccio vedere di qua ricaricando la pagina è questa riga che è comparsa quindi quando mettiamo hr andiamo a mettere una riga ovviamente non ha senso mettere qualcosa dentro la riga cioè la riga è un elemento a sé stante quindi buona parte degli elementi possono contenere altri elementi al loro interno ma non è una regola generale ok allora una caratteristica importante di html5 rispetto agli html precedenti quindi fino all'html4 è quella di voler andare a separare nettamente quello che è il contenuto rispetto alla presentazione abbiamo già accennato parlando dell'architettura web in generale nell'architettura web ideale noi avremmo i contenuti quindi il testo e le regole che ci dicono quali ruoli gioca il testo all'interno di una pagina html mentre invece l'aspetto di layout di visualizzazione di come viene rappresentato il contenuto separato all'interno di un file di tipo css all'interno di html5 ci sono alcuni tag che vanno a indicare non tanto le caratteristiche grafiche i tag b e i ricadono in questa categoria b sta per bold i sta per italico questi tag sono presenti ancora in html5 sostanzialmente per compatibilità con tutto l'html che è stato scritto negli ultimi 30 anni se scomparissero il 90% delle pagine non funzionerebbero più tuttavia normalmente quello che si fa all'interno di una pagina html che segue le convenzioni html5 è di utilizzare dei tag di tipo diverso innanzitutto non vado a mettere direttamente h1 in questo modo ma di solito vado a mettere il tutto all'interno di un tag che possiamo chiamare di section quindi una sezione è un elemento del nostro documento come viene rappresentata una sezione beh questo dipende dalle regole che vogliamo darci ma resta il fatto che quella è una sezione se vogliamo andare a stampare un libro la sezione probabilmente prevederà di iniziare su una pagina dispari e di mettere innanzitutto un titolo e lasciare una pagina vuota prima ad esempio se invece ho una pagina html con un flusso continuo magari una sezione prevede una riga prima o un po' di spazio bianco precedente di nuovo il contenuto ci dice che quella è una sezione del nostro documento come viene visualizzato è un altro discorso all'interno della sezione a questo punto ha senso andare a mettere un titolo a questo punto sarà il titolo della sezione all'interno del nostro titolo andremo a mettere la nostra sezione andremo a mettere quelli che sono i capoversi i capoversi in html vengono identificati da i tag p e meno p scusate p e slash p p sta per paragraph attenzione in italiano si dice capoverso in inglese si dice paragraph paragrafo in italiano ha un altro significato poi viene utilizzato in maniera impropria ma il termine corretto in italiano è capoverso quindi all'interno di un capoverso andremo a mettere il nostro testo quindi non utilizzeremo tanto i tag di tipo b o di tipo i che hanno una connotazione di visualizzazione ma andremo a utilizzare piuttosto dei tag introdotti in html5 per questo scopo per cui dentro un capoverso paragraph paragraph in inglese posso avere dei frammenti strong importanti importanti questo è un modo corretto di andare a utilizzare html5 abbiamo un capoverso che cosa sia un capoverso se deve avere spazio prima spazio dopo se debba essere rientrato se la prima lettera del capoverso debba essere disegnata più grande più piccola con un colore diverso questo è qualcosa che non pertiene al contenuto ma pertiene alla visualizzazione il fatto che paragraph sia in qualche modo enfatizzato viene rappresentato da questi tag m m sta per emphasis che l'enfasi corrisponda a italico è una convenzione di solito utilizzata ma invece di essere italico potrebbe avere un altro colore potrebbe avere uno sfondo diverso potrebbe essere cerchiato ci sono tanti modi di andare a enfatizzare un frammento di testo invece questa parte importante è quello che viene definito come un elemento di enfasi forte quindi strong mi sta a indicare che voglio mettere un'enfasi forte e nella convenzione tipografiche normali l'enfasi forte è normalmente data dal grassetto però di nuovo potrei decidere qualunque altro tipo di rappresentazione tenete conto che l'html potrebbe anche essere utilizzato non semplicemente per fare una visualizzazione ma potrebbe essere letto immaginate il contenuto di una pagina html che debba essere dato o reso fruibile a qualcuno che ha problemi di vista e allora sarebbe opportuno avere all'interno del nostro testo delle annotazioni che ci dicono ad esempio come andare a leggere per cui quando leggiamo dentro un capoverso paragraph quindi in maniera più enfatica in inglese possono avere dei frammenti molto importanti e quindi anche un sintetizzatore vocale potrebbe sfruttare questo tipo di annotazioni per andare a leggere meglio e produrre una rappresentazione migliore ok quindi noi adesso parleremo di rappresentazione visuale ma tenete presente che i contenuti di un file html potrebbero essere esclusivamente visualizzati scusate rappresentati in maniera vocale e quindi utilizzare delle annotazioni che non sono strettamente legate ai dettagli tipografici ad esempio bold e italico è decisamente meglio e più indipendente da come verranno visualizzati e o riportati allora ci sono diversi riferimenti poi ve li riporto uno abbastanza completo è quello che si chiama w3schools.com w3schools.com qui ci sono ovviamente html css ci sono tante cose in più rispetto a quello che vedremo noi però è un buon riferimento ci sono delle descrizioni ci sono un sacco di esempi quindi quello può essere un buon riferimento un altro riferimento è quello che si chiama mdn mdn sta per mozilla development network in cui abbiamo ovviamente vari riferimenti tra cui ad esempio html e css vi metto i due link più questi vi li metto direttamente qua e poi vi li riporto anche su slack così ce li avete a disposizione allora piccola osservazione mentre w3school è pensato come un qualcosa un po' più divulgativo quindi ci sono esempi descrizioni ma non è strettamente legato a la correttezza degli standard e quindi è forse un po' più facile da leggere soprattutto all'inizio se voi volete avere una descrizione molto più precisa e molto più legata a quelli che sono gli standard sicuramente mdn è più conforme agli standard quindi vi da una descrizione molto più precisa e puntuale per cui potete utilizzare questi due riferimenti ce ne sono tanti altri ma questi forse sono quelli più comodi da utilizzare a seconda delle occasioni come consiglio iniziate con w3school che è un po' più semplice e poi se vi serve qualche dettaglio molto particolare mdn è sicuramente un po' più specifico io vi sto facendo un'introduzione molto molto semplice semplice e base ad html comunque ci sarà poi un'altra vi registrerò una lezione un po' più dettagliata di panoramica di quelle che sono le caratteristiche quindi riprenderò le cose che vi ho detto adesso in maniera un po' più strutturata dandovi qualche indicazione più puntuale e poi riporterò ovviamente anche questi questi riferimenti all'interno delle slide per cui riprendendo la caratteristica fondamentale di html5 rispetto a html4 ma anche rispetto a tutte le versioni precedenti di html è per l'appunto questa enfasi sul contenuto come un qualcosa di separato rispetto a quelle che sono invece gli aspetti di visualizzazione per cui l'idea è voglio andare a mettere da una parte il contenuto e dall'altra parte voglio andare a mettere quello che è il modo di rappresentarlo per cui ad esempio dentro l'html potrei andare a mettere una sezione che possiamo chiamare di stile in cui andiamo a dire ad esempio h1 color due punti red ora vedete che quando vado a mettere il colore mi vengono dati tutti i vari colori possibili non so dark red orange red con poi nel margine il colore come viene rappresentato ok a questo punto se torno alla mia pagina di prima e vado a vedete che a questo punto il mio titolo ha cambiato colore questo era giusto per darvi un'idea del fatto che posso scrivere separatamente questo che abbiamo messo qui in questo blocco di stile è sostanzialmente un frammento di css ci torneremo più avanti e vedremo nel dettaglio come funziona però l'idea è che il contenuto sta da una parte sostanzialmente nel bali css può stare nel led oppure addirittura in un file separato quindi abbiamo uno degli elementi fondamentali della scrittura sono i capoversi ovviamente io posso avere anche altri elementi posso avere ad esempio degli elenchi gli elenchi in generale possono essere di tipo appunti oppure numerati per gli elenchi appunti abbiamo quelli che si chiamano degli ul ul sta per unnumbered list allora con html è possibile creare un sito web personale sì ovviamente dovete avere a disposizione un server su cui andare a mettere il contenuto in realtà qualunque sito voi andiate a creare alla fin fine è fatto in html non è detto che però voi andiate direttamente a scrivere codice html per cui se voi fate un post su facebook oppure se avete un blog su wordpress quello che scrivete non è direttamente html ma alla fine viene convertito tutto in html se invece volete avere un controllo maggiore e più fine di quello che andate a creare potete scrivere direttamente html ed è quello che faremo noi in questo corso uno dei primi esercizi che faremo sarà quello proprio di andare a scrivere un cv vostro utilizzando l'html torno alle liste che vi stavo menzionando quindi ul sta per unnumbered list quindi una lista non numerata all'interno delle liste abbiamo quelli che si chiamano i list item li quindi primo elemento e poi posso avere un altro list item ad esempio secondo elemento questo permette di andare a generare questa lista puntata ovviamente posso anche avere ad esempio altri elementi posso avere delle tabelle posso avere delle immagini e infine posso avere quelli che sono magari all'interno di un nuovo paragrafo posso avere dei link i link vengono introdotti da un tag che si chiama a a sta per anchor è il punto in cui vengono ancorati i link ovviamente a messo così è inutile devo andare a dire a cosa punta questo link per fare questo dentro il tag di apertura del link andrò a mettere un href un parametro o meglio un attributo del nostro elemento di tipo A che dice dove deve puntare questo link e qui andrò a mettere un url da qui che so http 2 punti slash www.polito.it A questo punto come viene visualizzato il link beh lo potete facilmente immaginare il link viene mostrato sottolineato ok convenzione universale i link sono sottolineati per cui cambia anche la forma del cursore quando lo posiziono sopra e se faccio un click sul link salto alla pagina il cui url è stato specificato e quindi posso tornare indietro abbiamo poi anche la possibilità di avere delle immagini vado a vedere se trovo un immagine che vi posso mettere vado a mettere questo vi ho trascinato semplicemente un file qui dentro logo2.jpeg tolgo questa parte e qui vado a mettere quella che è immagine i tag di immagine hanno la necessità di avere un attributo che si chiama src in cui vado a mettere il link al file di immagine che voglio andare a mostrare all'interno della mia pagina html a questo punto se torno qui e ricarico la pagina di nuovo si è doccato allora provo a riaprirlo di qua lo riapro e avendo modificato il contenuto di nuovo per motivi di sicurezza Webster me l'ha bloccato comunque questo è l'immagine che avevamo messo ed è il logo per il corso non ho visto cosa è scritto allora torno qua ho scritto sostanzialmente questo tag che adesso si dovrebbe vedere img è il tipo di tag e poi src uguale è l'attributo che mi dice qual è il file d'immagine che devo andare a mostrare che cosa succede che quando il browser trova questo tag va a leggere il contenuto di questa immagine e me lo mette in quella posizione all'interno del del nostro documento e quindi otteniamo questo una cosa che vi ho menzionato all'interno della lezione il sì il documento l'immagine ragionevolmente deve essere all'interno della stessa cartella quindi io l'ho trascinato l'ho copiato dentro il nero di principio potrebbe essere una qualunque immagine che si trova su web in cui io posso andare a specificare l'url però se voglio specificare soltanto il nome del file ovviamente si assume che il file si trovi nella stessa cartella in cui si trova il file html io posso sempre andare a aprire la modalità di sviluppatore questa modalità c'è con qualche piccola differenza in tutti i browser una cosa che volevo farvi notare è che quando io vado a ricaricare una pagina ho scelto la network la cartella network vado a ricaricare la pagina e automaticamente vedete che qui ho una sequenza di temporale di quello che è successo questa grossa barra verde è sostanzialmente il tempo di attesa vedete c'è un verde in cui è stato messo un grigio che è il primo frammento in cui vado a mettere in coda forse non so quanto si vede vediamo se riusciamo a ingrandire c'è il tempo di trasmissione quindi quello che è il delay io ho una inizialmente il momento in cui la richiesta viene messa in coda il viola mi indica la richiesta al dns quindi devo andare a convertire il nome localhost in un indirizzo è un'operazione facile perché in realtà è la macchina locale poi c'è una parte gialla che riguarda la connessione fatta tramite il protocollo TCP c'è tutta la parte verde che è una parte di attesa che sono 40 millisecondi e poi c'è l'ultimo pezzettino quello azzurro che è quello di download quindi sostanzialmente l'operazione di caricamento del file primo.html è un qualcosa che ha richiesto dall'inizio alla fine 45.9 millisecondi se noi andiamo a vedere la riga successiva quella relativa a il logo scusate questa è la riga sotto vedete che c'è scritto memory memory significa che quell'immagine era già stata caricata prima e quindi il browser non la carica di nuovo sostanzialmente buona parte dei browser utilizzano un meccanismo che si chiama cache in cui memorizzano una serie di pagine ma soprattutto immagini in modo da non doverle ricaricare ogni volta perché ovviamente caricare un'immagine vuol dire fare una richiesta aspettare che il server risponda ricevere la risposta e a quel punto ho l'immagine a disposizione se invece ce l'ho a disposizione in locale ovviamente risparmio molto molto tempo e quindi ho un'interazione molto più veloce con il mio utente come se avete la modalità sviluppatore su affari credo che sia nelle preferenze da qualche parte tutti i browser tutti i browser sostanzialmente hanno questa modalità sviluppatore questo è Safari ma se vogliamo andare a prendere ad esempio Firefox che è questo anche qui c'è strumenti sviluppo web e attiva strumenti quindi vedete che qua sotto ho esattamente la stessa operazione di prima quindi ho il contenuto della pagina allora se volete posso fare analisi pagina e qui vi trovate esattamente il contenuto che avevamo scritto prima vedete c'è un capoverso il P l'immagine quindi andando a esplorare il contenuto della pagina HTML posso andare a vedere a che elementi corrispondono all'interno della nostra visualizzazione e anche qui se vado a selezionare l'opzione di rete e ovviamente vado a ricaricare la pagina vedete che ho metodo get una richiesta HTTP tipo get a chi ha un localhost a questa porta il file è questo quindi questa è la query che viene mandata è un documento sono 879 byte e questo mi ha richiesto riduco un po' questo spazio mi ha richiesto 6 millisecondi altri 37 millisecondi per accedere alla pagina logo.jpeg che è 34,91 kilobyte quindi in questo modo io posso andare a vedere la richiesta se vado a vedere nel dettaglio la richiesta vedete che qui ho le informazioni relative a quella che è la richiesta quindi la richiesta è una richiesta di tipo get per quest'url l'indirizzo 127.001 che è l'indirizzo della macchina localhost c'è una porta la risposta è stata 200 ok la risposta è sostanzialmente questa se torniamo qua vedete che la risposta contiene tutte queste informazioni mi dice che abbiamo un content length abbiamo un content type la data l'ultima modifica il server è webstorm e invece qui sotto abbiamo il tipo di richiesta ok tutti i dettagli che io vi avevo presentato in maniera molto veloce parlandovi dell'architettura generale del web e parlandovi di HTTP a questo punto l'obiettivo di oggi era sostanzialmente presentarvi webstorm che poi sarà lo strumento che utilizzeremo per il resto del corso darvi un'idea generale di cos'è l'HTML e di come funziona soprattutto quando lo scriviamo in webstorm spiegare il meccanismo spiegare il meccanismo con cui possiamo tramite webform scrivere del contenuto lanciare un server web e andare a collegare un browser che possa farci vedere i nostri contenuti questo è la base per poter andare avanti nelle prossime settimane vi presenterò a breve nuove lezioni relativamente ad HTML dopo l'HTML parleremo del CSS che è il linguaggio per andare a descrivere lo stile quindi mi dice come il browser trasforma il contenuto in una visualizzazione dopo aver visto quindi HTML e CSS passeremo a vedere come andare a scrivere del codice che funziona sul browser e quindi parleremo del linguaggio JavaScript il linguaggio JavaScript è abbastanza complicato quindi questo ci porterà via un po' di tempo diciamo due o tre settimane dopodiché una volta che avremo preso un po' di dimestichezza con il linguaggio JavaScript vedremo come potremo utilizzare delle librerie specifiche JavaScript per andare a leggere dei dati via un protocollo HTTP che sono memorizzati su un server e visualizzarli generando dei grafici in particolare faremo riferimento a una libreria che si chiama Plotly che è abbastanza completa ma è relativamente semplice da utilizzare e quindi potremo utilizzare per costruire visualizzazioni interattive su web che è sostanzialmente il punto di arrivo e l'obiettivo finale di questo corso a questo punto la prossima lezione sarà il laboratorio di giovedì 16 esattamente io rispetto la la sospensione che era prevista da modo a me e anche a voi di riposare vi pubblico delle lezioni quindi ci sarà una lezione ancora su HTML probabilmente domani che sarà utile poi per andare a scrivere il codice nel prossimo laboratorio cercherò di pubblicarvi anche altre lezioni un po' più avanzate che però non saranno utili per il prossimo laboratorio quindi l'unica lezione che serve è quella relativa ad HTML che vi pubblicherò a breve ovviamente poi ce ne saranno altre ma le utilizzeremo poi nelle settimane future direi che con questo per oggi possiamo chiudere non ci vediamo più quindi vi faccio gli auguri di buona Pasqua rilassatevi riposatevi soprattutto mentalmente e ci rivediamo in realtà non con me ma con Diego Monti giovedì prossimo per il prossimo laboratorio che sarà centrato su HTML arrivederci e auguri a tutti a tutti Grazie.